Benvenuto al corso di laurea magistrale in scienze chimiche, dove potrai conoscere gli aspetti più moderni e innovativi della chimica, in laboratori moderni e dotati di tutte le attrezzature più all'avanguardia che si possono trovare in un'università. La chimica è un campo di studio estremamente importante e diventa sempre più importante ogni anno che passa, sia per quanto riguarda le scienze della vita, sia per moltissimi aspetti della produzione industriale, sia per il contrasto all'inquinamento e al riscaldamento globale e sia per lo sviluppo e l'introduzione di nuove forme energetiche e di nuovi materiali che ci possono aiutare nella vita di tutti i giorni. Nel corso di laurea apprenderai delle solide basi in tutti i campi della chimica, chimica inorganica, organica, chimica fisica e chimica analitica, con un corpo docente giovane che svolge ricerca scientifica ai massimi livelli e la trasmette poi nelle aule in cui insegniamo. Oltre alla preparazione di base avrai a disposizione diversi corsi complementari e di approfondimento che potrai scegliere tu a seconda dei tuoi interessi e del settore in cui ti vorrai poi impegnare. La struttura in cui studierai è molto nuova, è stata ultimata soltanto da pochi anni e i laboratori sono estremamente moderni e dotati di attrezzature all'avanguardia. Il corpo docente è più giovane di quello che puoi trovare in molte altre università e questo ti garantisce che i stessi insegnanti sono anche attivi nella ricerca scientifica e poi la trasmettono. Noi abbiamo un numero di iscritti abbastanza limitato, circa 20 persone ogni anno, in totale abbiamo una cinquantina di iscritti al corso. Questo garantisce che ci sia un rapporto molto stretto fra gli studenti e i docenti che praticamente conoscono personalmente tutte le persone che frequentano il corso. Non abbiamo nessuna difficoltà nell'avere rapporti personali e nel rivolgersi ai docenti per ogni esigenza ed ogni problema che può sorgere durante il corso di studi e quando si inizia il lavoro di tesi e il lavoro di ricerca questo avviene sempre a stretto contatto con i professori e i ricercatori che quelle ricerche le svolgono. Durante il corso di studi, se lo desideri, potrai passare alcuni periodi di studio all'estero tramite i programmi Erasmus e Freemover che ti consentono di seguire corsi e sostenere esami in diverse università straniere. Le tesi di laurea vengono svolte all'interno del dipartimento sotto la guida dei docenti e dei ricercatori oppure in aziende convenzionate con l'università e in entrambi i casi potrai inespertirti e conoscere le tematiche più all'avanguardia nella ricerca chimica, teorica e applicata. Al termine del corso di studi diventerai dottore magistrale in scienze chimiche e avrai accesso a molte possibilità professionali. Potrai continuare a occuparti di ricerca scientifica tramite i corsi di dottorato nella nostra università o in altre università in Italia e all'estero. Oppure potrai impegnarti in un gran numero di aziende di realtà produttive come responsabile dei settori di ricerca e sviluppo, di controllo qualità, in ruoli dirigenziali e tecnici di alto livello. Potrai inoltre partecipare a tutti i concorsi per l'insegnamento delle scienze e della chimica nei diversi ordini di scuola e potrai dedicarti anche alla libera professione da chimico dopo aver superato l'esame di Stato. Altre informazioni le puoi trovare sul sito del corso di laurea del Dipartimento oppure scrivendo mail agli indirizzi che vedi indicati sulla slide. Vi aspettiamo al corso di laurea in scienze chimiche. Grazie a tutti. Grazie a tutti.